Sempre in bilico tra chiusure e riaperture, il settore della bellezza e del benessere soffre la mancanza di continuità. Parrucchieri ed estetisti molisani, chiusi nel periodo di zona rossa, adesso hanno ripreso le proprie attività, ma il rischio di una nuova chiusura restrittiva è sempre dietro l'angolo e così gli affari diminuiscono a fronte delle spese che invece restano. Confesercente afferma che solo nell'ultimo anno il settore ha subito perdite per oltre 20 milioni e sono decine di migliaia i posti di lavoro a rischio. I professionisti del settore chiedono al governo interventi mirati per affronteggiare la crisi e intanto assicurano la massima sicurezza ai propri clienti. Noi sin dall'inizio abbiamo attuato tutte le messe in sicurezza del locale, obbligo di mascherina, distanziamento e ovviamente garantiamo al cliente la massima igiene della pulizia delle superfici, dell'ambiente e speriamo che non ci sia una discontinuità nella chiusura e nell'apertura perché anche a noi commercianti ci mette un po' a disagio soprattutto con gli appuntamenti, le persone ovviamente hanno paura e quindi giustamente come riesce il nuovo decreto ovviamente non hanno continuità nel servizio e quindi ci penalizza soprattutto per questo periodo pasquale. La clientela comunque risponde, ci sono una serie di prenotazioni quindi si va comunque incontro alla fiducia delle persone rispettivamente alla vostra professionalità e appunto proprio alla garanzia che potete mettere in campo in termini di sicurezza. Sì sì, noi abbiamo da subito lavorato perché garantiamo la massima sicurezza ai nostri clienti, quindi hanno fiducia in noi e soprattutto non si sentono veramente sicuri e ovviamente con la massima igiene abbiamo un sistema di areazione nel nostro locale che ci permette di avere una continuità di ricambio dell'aria e quindi sicuramente tutto ciò che possiamo fare noi facciamo. Poi sta anche al cliente avere fiducia in noi, noi diamo il massimo.